Allora, mancano solo due giorni, sbaravo a notizia. Digli che ho quasi finito. Digli che gli mando un messaggio così domani te la vieni a prendere. Vabbè però ci vieni pure te con me. Va bene. Torno a lavorare, va? Ma come ti è venuto in mente, me lo dici? Che cosa? Di andare a letto con la madre di Aureliano. Ma con tutte le donne che ci sono, dico io. Scusa, te invece da quant'è che ti interessi dei rapporti sentimentali delle madri e dei tuoi compagni? Da quando mio padre se le porta a letto e ti fai pure sgamare. Vuoi fare le cose in nascosto, no? Ti sei fatto beccare da Manuel e ti ha visto. E secondo te perché Manuel te l'ha detto a te? Perché Manuel era uno stronzo, va bene? Appunto. Sì, ma sto parlando di te, non sto parlando di Manuel, va bene? No, tu stai parlando delle mie relazioni sentimentali che in realtà non ti dovrebbero riguardare. Ma ti senti? Dico, ma ti senti, sei ridicolo. Io non penso che tu conosca bene il significato della parola ridicolo. Ecco il professore che esce, ecco il professore. Allora, vuoi che non faccia il professore? Va bene, allora scendo al tuo livello, io ti parlo delle mie relazioni se tu mi parli delle tue, va bene? Le tue relazioni? Tu non sai niente dell'amore. Tu vai a caccia, metti le donne nel mirino, questo fai. Ma guarda che tu sei frutto del mirino, di tua madre e del mirino mio. Ci siamo mirati, capisci? Io non le voglio più sentire queste cose, non le voglio più sentire. Va bene, tu cosa mi hai detto l'altro giorno? Non mi ricordo. Devi essere chiaro con le persone che ami. E ho seguito il tuo consiglio. Bravo, bene. Male invece, male! Male? Male perché ho fatto la cazzata della mia vita, va bene? E non voglio mai più sentirti, mai più!